Buonasera a tutti, è al tavolo della Presidenza. Io credo che questa sera sia un'occasione buona per fare una riflessione pacata su questa vicenda, sulla quale io non ho sentenze da emettere, ma sulla quale qualche osservazione di metodo e di principio vorrei farlo. Molto l'elemente che mi è sempre capitato, che mi capiterà anche questa sera, che durerò tutte le tifoserie in campo, perché io sono conto di tifoserie, non sono mai appartenuto alle tifoserie, e ho sempre cercato di valutare le situazioni che ho incrociato come amministratore pensando a una formoletta che tutti quanti richiamiamo, ma di cui tutti quanti ci dimentichiamo perché apparteniamo alla tifoseria. E confondiamo l'interesse generale, il bene comune, come diceva Giorgio Lapira, con quello che è l'interesse della tifoseria. E l'interesse della tifoseria è legittimo, crede che non ci sia, viene da sfamentalizzarsi perché ci troviamo di fronte alla valutazione che dalla comunità fanno gli ordini preposti, all'amministrazione di quella comunità. Noi sindaci siamo tra l'ingudi del martello una volta, siamo come i caponi di Renzo, ma l'unico modo per non fare la figura dei caponi di Renzo è quello di fare una riflessione pagata. E credo che il Tena non sia quello che voi avete toccato, che siete arrivati troppo a valle, ma dovremmo fare un passaggio a monte e porci due obiettivi. E quello voglio dire anche come alibi di certa volta e come giustificazione dell'attività dei vari consigli direttivi da parte dei presidenti che si sono succeduti, che molto spesso hanno assunto delle decisioni spingi dalle tifoserie senza valutare complessivamente il problema. Allora io mi faccio due domande, io non ho una proposta da fare, ho una preoccupazione da esprimere e la esprimo come sindaco di uno dei 56 comuni che a differenza di molti altri colleghi sono nel parco ma non credono e non hanno mai creduto nelle politiche di sviluppo di aree protette. Perché? Questo è una delle contraddizioni, quella più vistosa che ci troviamo tra i piedi, altre le abbiamo scanzate in questi anni, ma ci sono delle trance. L'Enel nel comune di Saracena ha attraversato con 12 travici una delle aree più naturalistiche, più degne di attenzione e più prezioso sul piano ambientale, tanto da essere nelle zone A. Ma è il presidente del banco, già assessore all'ambiente della provincia di Cosenza. Un sindaco di rifondazione comunista, prima per le autorizzazioni, e un sindaco socialista, quello dice sindaco del partito comunista, hanno consentito l'esecuzione dei lavori senza fare niente, senza muovere un cibo, senza scuotere un filo d'erba sul cibo della strada. Io che amo la natura e l'amavo prima ancora che c'entrassi il parco, ne sono pagate le conseguenze. E vorrei citare e ricordarlo al presidente Pappateri, che era vicepresidente con me con gli annunzi, che il sottoscritto, per aver scelto a suo tempo le aree protette, il cibo e i cacciatori del Pollino hanno creato una lista ad hoc solo nel collegio che riguardava il presidente della comunità mondiale politica e di sottoscritto, che era anche consigliere provinciale. E si fece, e l'unica coppia che avevo, era quella di aver fatto la scelta per le aree protette. Allora non era stato messo il decreto. Quindi ho titolo per parlare, perché ne ero convinto in quei lontani 1992-91. E ne sono maggiormente convinto adesso, tant'è vero che in coerenza con questo, io, il territorio che è stato vocato all'area naturalistica, io non solo la tutelo, ma la promuovo e sono sempre a sconderare con la provincia e con la regione, che invece di essere attenta alla valorizzazione e alla promozione di queste aree, io mi sempre sento un po' di culo per terra. Quando sono andato a Vocati, che è il più grande parco naturale della Finlandia. E quando sono stato ricevuto, non mille anni fa, ma dal 13 al 16 di luglio di quest'anno, insieme con Armendano del Gallo, del Polino, insieme al sindaco di Rosario Capospunico, come rappresentante del Gallo dell'Alto Ionio, e insieme all'ingegnere Rizzo e da Ranieri Clippelli, direttore e presidente del Gallo. E mi hanno ripetuto gli amici finlandesi che avevo ospitato due anni prima, non fa piaccio perdere tempo, perché se mi ascoltate con attenzione e riflettete un attimo prima di battere o di alzare la mano, molto probabilmente questo mio orato a perlo produce qualche effetto. O se ormai vi siete votati dalle rispettive tifosi lì, i giorni sono fatti, quindi l'utile che è stato lì a perdere tempo. Questo è imponerabile, le tue ragioni sono ferite da espressione di questo genere, questo non puoi dirlo, perché questo è offensivo e non lo dice il Presidente, lo dice il tuo collega, Tagliardi che molto probabilmente oggi stende la parola per te e quindi non farmi appartenere, io non appartengo alla tua tifoseria, che è il concetto, così come non appartengo all'altra tifoseria. Io parlo come sindaco del mio comune, rappresento gli interessi della mia comunità e voglio dire quali sono questi interessi della mia comunità in relazione all'ordine del giorno. Stavo parlando e il Presidente non se ne ha accorto, ma vi vogliamo dire, ma qui vogliamo parlare dell'argomento, smettetela perché perdete tifosi, ammesso che ne vogliate dire, non facciamo questione di procedura, certo, è infelice la collocazione dell'esperto Presidente, è un attimo stato un po' infelice, perché avrebbe dovuto mettere un'altra cosa, accordate e poi retta. Detti con noi si presta, ma penso al Zilogoni che ha studiato Manzoni, che ha letto Manzoni, vogliamo fare gli emuli di Anzacca e Garbogli, ci va, sei un bravo signo, non parlo al Zilogoni in questo motivo, perché se non ci perdendo come dignità di signo, chiusa, la parezza è chiuso, scusa, il problema di fondo è un altro, che lo diceva anche l'altra volta, e di qui devo essere serio, perché io dico quello che faccio, e faccio quello che dico, e sono una persona normale, io ieri sera sono stato a Campocalo, e l'altro giorno sono stati degli scaioni a Palermini, e sono la 97 cittadina delle 400 comunità della Calabria, dalle quali sono state invitate per parlare di alcune cose per averne fatte nel mio territorio. Quindi se c'è uno che è tifoso per le aree protette è il sottoscritto, non l'unico, non il migliore, non il più bravo, ma uno di quelli che non ha dubbi su un fatto che ha ragione, si trova, non so, di Vicciarello. Qui il problema è capire, noi vogliamo essere in un'area protetta? Noi crediamo alle politiche di sviluppo coerenti con le aree protette? Perché io dico che in questo territorio, che è troppo vasto, lo dico oggi perché ne ho titolo, perché lo dicevo quando avevo fatto la prima attrazione, molta gente si è trovata con il territorio all'interno del parco, non lo so come, o però l'avevo subito che non l'avrò analizzato, ma sono all'interno del parco senza comprendere la valenza che ha dei dati positivi, il sindaco di Vicciarello, il sindaco di Castellucci interiore, ha dei motivi positivi ma anche degli effetti negativi, non puoi avere l'uovo e la gallina, scegli la gallina o scegli un uomo in certe occasioni, non puoi scegliere entrambi, perché una gallina adibito non deve fare le uova, molto probabilmente, se invece la gallina deve fare le uova, la gente non la manda in macello. Allora noi stiamo pagando nelle conseguenze di un parco, la cui perimetrazione è stata fatta alla cazzo di cane e ci sono all'interno di questa perimetrazione, ci sono terri amministratori comunali che sviluppano politiche non coerenti con le aree protette, questo è il problema di qua, lo vogliamo affrontare qui, non stiamo parlando di serie A, di serie B, non stiamo parlando che quelle che vogliono le aree protette sono più bravi di quelle che non vogliono stare nelle aree protette, sono due concezioni di politiche di Girù, sono due in realtà completamente diverse, io che punto sulle tre, come dicono molte di quelle di una tiposeria che ti accusano, che sono il sito delle tre, loro pensano che sia un'offensa, io sono il sito della romanzia, della moscata della montagna, ma perché quelle tre fanno parte dell'archetipo di una politica ambientale che punta sulla tutela integrale delle aree per poterlo utilizzare ai film turistici si, ma se c'è una centrale non dovete parlare del turismo, questo è il concetto, è legittimo che voi non puntiate sul turismo, che è puntiato sulla infrastruttura, è legittimo, ci sono dei territori che sono ricchi perché non hanno puntato su politiche di sviluppo che hanno la tutela, la valorizzazione e la fruizione, tutela, valorizzazione e fruizione, queste tre cose non possono succedersi, non messo un fatto automatico a Castelluccio e a Saracena, no! Tant'è vero io che mi sono battuto per una parte del territorio e per altre parti del territorio vocale, allora è questa una contraddizione, quindi smettiamoli i vari tiposi e facciamo un'analisi, un'analisi che potrebbe anche portare ogni volta a Mimmo, che stimo per la sua pazienza e si trova a certe volte come l'analisi in mezzo ai suoni diversi e la mediazione a un certo punto poi deve finire e ci sono delle scelte da fare, allora c'è un problema, io la devo accusare, glielo ho detto in privato e glielo posso dire in pubblico perché sa dalla mia lealtà, anche in questa occasione, che molto spesso anche le risorse finanziarie, quelle poche risorse finanziarie, che Mimmo è riuscita ad attivare e Mimmo se nella giunta nazionale delle aree protette qualche bene dovrà il nostro Presidente, perché io quello sono il Presidente nazionale che è un Toscano, io con la Toscana ci sono andato a letto con gli Umbri e con i primi di sedere anche con i mondanari del Trentino, sono i miei amanti per lo sviluppo del territorio, anche se ho accolto poi mi incazzo quando arrivo che noi abbiamo la montagna del Trentino, la campagna delle Langhe Piemontesi, la campagna Umbra e la collina e abbiamo una regione che ha tutte e quattro questi elementi e non riesce a sviluppare nessuno di questi quattro elementi e siamo la regione più arretrata e facciamo la prognomazione europea innesca, l'ho detto a Maggine, su Presidente, fammi parlare che parlo non frequento mondo e lascio ti dire le cose che ti danno anche la mano come Presidente di questa Assemblea perché su questi temi, su questi temi alti dobbiamo parlare e ci dobbiamo differenziare e dobbiamo essere amici per non litigare con i tifosi lì che non andiamo da nessuna parte e non deve decidere il tale o il Consiglio di Stato quello che deve fare una comunità o un'intera comunità. E questo è il problema. Tre parchi nazionali, settecenti che non li costano, un grande patrimonio storico, naturalistico, monumentale, di cui ci mandiamo, il Codice di Spurpurso e i rossali sono la zona ma che cazzo è? Oppure la Cattolica di Stile pensano che sia la cassetta delle frate, di fatto avvolgare? E noi abbiamo una sproporzione tra le condizioni socio-economiche di questa regione e la grande ricchezza. Quante cose inutili abbiamo fatto? Abbiamo fatto pensando che erano utili e quante cose inutili non abbiamo fatto pensando e dimenticando che fossero utili. C'è un professore universitario che ha fatto un bel livello ripercorrendo tutta l'astrografia dei più grandi autori del novecento, dell'ottocento e delle donne di marzo del Consiglio. Ma perché non è stata una cosa inutile il gruppo Andrini? Non è stata una cosa inutile il gruppo destra di Cedrà? Non è stata una cosa inutile la devastazione della Pia di un gioia a tavola per l'ipotetico quinto cento cirurgico e quella merda di ponte e di riporto che è il porto di tutte le pavie del mondo? Se questi soldi, spesi per questi investimenti industriali, sulla base della illusione industrialista, se avessimo investito in tutto il territorio e avranno fatto diventare paesaggio, a Mandarcino vanno il piede dell'evolatore. E vale per me che sono in un comune più disgraziato di tutto quanto gli altri. Però c'è un'autocritica di dire di cosa si deve fare. Il paesaggio le vicolo, le città dell'olio, le città del vino, noi sanno tutte queste cose. Allora scegliamo, per ritornare adesso dai massimi sistemi alla realtà concreta. Se l'Enel, ho fatto i conti, ci dà 21 milioni di euro in otto anni, un motivo ci sarà. C'è l'Enel, l'Enel, non regala niente nessuno. Perché all'Enel, l'Enel, l'Enel mi ha messo questi tali, ci dà un po' di soldi. Dice, no, io non sono più. E mi ha mandato la Terna. Terna dice, eh sì, vi dovete muovere quando c'è le cose. E mi hanno fregato l'una e l'altra. Allora, qui dobbiamo decidere una cosa. Partiamo da uno su. Se qui sbaglio, i tecnici mi smendiscono. Ho finito. Non dovete essere impazienti. Le tifose vie, per favore. Non potessi che non qua. Io sono un cazzone, qui mi dice, metto, dicevi tu. Potete essere molto intelligente, mi metterlo a due in tre secondi. Se invece devi stare senti, mi devi fare l'ascoltante. senta, lo vai avanti. Perché stiamo parlando non che non c'ho l'idea. Se invece tu hai già pensato come spendere i soldi dell'Enel, allora è chiaro che si è distra. Ma vabbè, ma continuo. No, tu non fai il professore. E no, via a te che ha disturbato. E non fai le libertà e così via. Ma stai inizi, ma stai inizi, che tu hai responsabilità di queste cose, che con i movimenti ti ha a dire delle cose e poi ti riprende le altre per continuare. Quindi non mi mancano gli attributi e la cultura per rispondere ai provochi. E rispetto a questo voto. Quando facciamo la legge dei 5 minuti, smetto a 4 minuti e 58 secondi. Allora la mia domanda, perché io dico che noi ci dovremmo prendere un brevissimo, un brevissimo lasso di tempo, per porci due domande e poi fare una domanda, non a lei, non lo so a chi. Le due domande ci dovremmo fare queste. All'interno delle aree protette, una centrale è una contraddizione. Carico concedato. Allora, siccome questa è la preesistente e ci sono state delle cose, dobbiamo valutare se i vantaggi sono maggiori o migliori degli svantaggi. Però partendo non dal fatto che vi danno 21 milioni di euro, ma dobbiamo dire se è compatibile con quello che è l'archetipo delle politiche di sviluppo che noi vogliamo attivare, che facciamo la strada dell'acqua, la strada dei ponti, ma dove c'è il piso, c'è un grande discorso, albergo diffuso, tante cose belle che poi sono immobattibili con un impianto di questo genere. Allora noi dovremmo dire, se siamo convinti di questo, allora non accettiamo l'impianto. Se invece ci accorgiamo che messo di fronte alla scelta l'uno dell'altro, noi abbandoniamo, non facciamo le piste ciclabili, le strade dell'acqua e se dobbiamo poi essere affiati dai fumi di una cinghiera e così via. Si tratta di fare una scelta e potremmo anche a distanza di anni procedere da una ripenetrazione all'interno delle aree protette. Perché c'è una contraddizione, colleghi, c'è una contraddizione nel fatto che una centrale che doveva essere disattivata o comunque per territorio non doveva essere compresa all'interno delle aree protette. Io ero uno di quelli che a quei tempi, a quei tempi, dissi, e qualcuno mi rispose, non Tavazzolo, un Lucano, il direttore generale, ma adesso facciamo passare il toro, poi gli sfondiamo le cose, il toro invece glielo abbiamo sfondato. Quindi questa ripressione. E facciamo il controllo dell'impatto ambientale su queste politiche. E ripeto, la politica industriale è legittima come la politica ambientale. Ma sono due ipotesi di sviluppo. Non possiamo mettere insieme delle cose. Una ripressione. Su questo lo dobbiamo fare. L'altra cosa. Ammesso di non concesso. C'è una autorità sanitaria, non in senso strettamente, diciamo, di medicina interna, ma di quelle che può essere di termometro, di termometro. Allora, io chiedo, che non lo so che non ho approfondito la materia, vi chiedo scusa su questo aspetto, mentre sono politico sulla prima parte, che c'è una contraddizione, che non tutti crediamo nelle politiche di sviluppo delle aree protette, ma ci stiamo dentro pensando di mettere l'una e l'altra. Su questo non ho dubbio. Mentre su questo non lo so, che mi chiedo scusa per aver approfondito la materia. E mi rifaccio a quelle che dicevo, finisco il sindaco, il collega. Le conseguenze. A breve, a medio e a lungo termine. Un istituto pubblico che possa dire alle popolazioni, e anche a Saracena questo punto, perché se voi dite che lei ne dà delle incommendazioni ai sette comuni e poi ne dà uno grande parco come altri, vuol dire che lei riconosce che anche se Saracena non è nell'ambito dei sette comuni, comunque ha diritto a una compensazione, pure perché è all'interno del parco. Per cui vuol dire, vuol dire che anche la mia comunità dovrebbe essere risarcita, perché le somme che si danno all'indeparco lo si danno complissivamente per l'intero territorio, se no non avrete tanto. Allora su questo io vorrei essere un attimo più tranquillo e sapere, chiedere al Presidente del parco e al Presidente dell'Assemblea della comunità, se è stato fatto e se è stato fatto, se dalle letture di questo chi l'ha letto può escludere, può escludere, escludere, non ipotetico, e può scrivere nei prossimi secoli, non per accorgere dopo quando dopo abbiamo scegliato la salute e il lavoro. No, io non voglio avere il dramma o la salute e il lavoro. Io vorrei il lavoro e stare in salute. E quindi penso che ci siano delle tecniche e degli enti e delle autorità che ci possano essere. Su questo io crederei, ve lo dico sommessamente, con grande senso di umiltà, anche se era al tono, accorato, non scambiatelo come presunzione, ma prendertelo come preoccupazione personale della mia comunità e la voglio rivolgere all'altra comunità con la umiltà di chi si sente, un amico insieme ad altre amici e per fare rete insieme, perché insieme andiamo lontano, da soli, possiamo fare un contratto di strada velocemente, ma alla fine rimaniamo in piegio. Per cui facciamolo una riflessione rispetto a questo. Grazie e ve lo scusa se ho forato i tempi che vi avresti in seguito.